Allora, mi chiamo Silvio Mattia Russo, questo è il Belgian workout Trowdown 14.1 Qui parte il metro, uno, passano 5 metri E questa, che trovo da 16 kg Vai, due, vai Ok, il swing arriva alla faccia L'unica cosa importante, corpo completamente dritto e braccia estesa Ok? Ok Ok Stacca le mani Qua 6, 2, 1, 2 Adesso ho fatto il swing Qua 2 Lo scattiamo bassi Eh, lo scattiamo Ma no, perché non lo risarciamo proprio? No No 2, 3, basta, 3 swing giro 4 4 grazie 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 buona Grazie a tutti. 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 Inizio il dodicesimo. Grazie a tutti. Unici, dodici. 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 Unici, dodici, dodici. Unici, dodici. Unici, dodici, 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 dodici, dodici. 6...7...basta! Bravo! Bravo figlio!